Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò dove trovare i fuochi d'artificio da accendere al lago Languito in Fortnite per completare una sfida, diciamo, rapida. Oggi tra le sfide potresti avere proprio questa. Ma dove si trovano questi fuochi d'artificio al lago Languito? Innanzitutto lago Languito è questo. Quindi vediamo insieme dove trovare i fuochi d'artificio che dovrebbero avere posizione fissa, quindi non cambiano. Adesso vi mostro la posizione di ogni fuoco d'artificio. Quindi partiamo dal primo che si trova praticamente qui sulla collinetta, vedete? Cioè, sopra lago Languito, qui, sopra questa collinetta praticamente, non so se lo vedete, qui sopra, c'è il primo, eccolo qua ragazzi, questo è il primo fuoco d'artificio. Quindi interagite con l'apposito pulsante. Passiamo ora al secondo. Partendo da qui, andate verso su e troverete il secondo fuoco d'artificio, che è questo qua. Il terzo è lì in fondo, vedete ragazzi? Sono cinque in tutto da accendere. Questo è il terzo. Quindi partendo dal primo, riuscite a trovare gli altri due. E adesso prendiamo gli altri. Uno è qui, in fondo. E l'ultimo è l'ultimo praticamente qui. Vi mostro la posizione, quindi attorno al lago Languito trovate i fuochi d'artificio.